Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con di prima mattina la rassegna stampa di Super G in questo sabato 16 dicembre 2023 che ci avvicina la fine dell'anno mancano appena 15 giorni quello di oggi il giorno numero 350 dell'anno per quanto riguarda oggi si celebra Santa De Laide il buongiorno da parte mia e da parte di Maurizio Valeriani in regia la rassegna stampa andremo a sfogliare i vari siti nazionali poi le pagine dei quotidiani il messaggio e il centro e poi ovviamente vi porteremo anche nei nostri spazi informativi con un servizio che è andato appunto nei nostri telegiornali partiamo subito con i siti nazionali con Rai News con l'apertura che è dedicata alla guerra di Gaza con notizie in costante aggiornamento l'esercito israeliano uccide tre ostaggi identificati per errore come minaccia israele alla ricerca dei resti delle vittime dell'attacco di Hamas così titola Rai News più 24 vertice a Bruxelles con il premier Meloni soddisfatta per le conclusioni sul patto di stabilità siamo ancora distanti riabilitare le prime immagini del traforo del Monte Bianco dopo la riapertura post lavori Parma l'auto di Filippo Turetta è arrivata dalla Germania a bordo di un camion ed è stata portata alla sede del RIS l'intervista esce cosa farò da grande la biografia di Gino Paoli con la gatta la musica divenne la mia vita queste le parole del cantautore Ligure ancora per quanto riguarda altri siti da Rai News passiamo a Sky TG24 con i titoli d'apertura per quanto riguarda Sky TG24 si parla del Consiglio dell'Unione Europea a Bruxelles Roma frena ancora sul patto di stabilità Meloni che dichiara posizioni distanti il punto manovra, messe e patto di stabilità le partite su cui lavora il governo per quanto riguarda il live sulla guerra come detto in costante aggiornamento perché le notizie arrivano di frequente media palestinesi intensi bombardamenti sulla striscia di Gaza guerra in Ucraina le ipotesi cosa succede se vince la Russia e con Sky TG24 si analizzano tutti gli scenari questo per quanto riguarda appunto i siti nazionali che andiamo a sfogliare adesso andiamo a sfogliare invece i quotidiani abruzzesi partendo dal messaggero edizione Abruzzo Pescara lotta alle baby gang è il titolo di apertura offensiva nazionale dello SCO di Milano nella città al centro di violenza urbana coinvolto anche il capologo adriatico controlli e perquisizioni tre in manette ancora cronaca Teramo tre a giudizio maltrattamenti nel centro di accoglienza e poi ancora in asse nelle case di riposo criticità in otto strutture a Sulmona riscontrate carenze igienico-strutturali ma non gravi paura a Teramo per un professore conosciuto che crolla a terra durante la lezione siamo al liceo classico delfico di Teramo strada parco via al mercato bancarelle divise in tre zone perché c'è a Pescara l'arrivo della filovia l'Aquila comune autonoma sistemazione già sono 200 i ricorsi Project di Chieti D'Alfonso vuole un confronto con Marsiglio il deputato dei Democratici deve spiegare le accuse nei miei confronti queste le sue dichiarazioni nei titoli sotto la testata a Città Sant'Angelo morto a 63 anni Marcello Cichetti ristoratore di Villa Chiara Celano litigano nel locale giovane sfregiato con la bottiglia rotta condanna a 4 anni poi si parla di sport con la Serie C il Pineto che gioca questa sera il Pescara domani sera ad Ancona ma la buona notizia è che Zeman è uscito dall'ospedale dalla clinica dove era stato ricoverato in settimana Zeman è già a casa Pineto oggi è sfida alla SPAL il tecnico Boemo era a riposo e vedrà domani la partita con l'Ancona in TV Biancazzurri di Amaolo invece affronteranno una grande squadra ferita avremo modo di approfondire i temi di sport nella pagina proprio dedicata allo sport questo per quanto riguarda la prima pagina del messaggero noi andiamo adesso invece ad analizzare le prime pagine dei quotidiano Il Centro partendo dall'edizione di Pescara il titolo di apertura cocaina per i ragazzini tre arresti blitz della polizia tra i locali della Movida frequentati dai giovanissimi ancora cronaca violenze sulle donne picchiata dall'ex e inseguita fino a scuola diciottenne si rifugia in chiesa è successo a Chieti stalker in trappola Pescara torna il Tired la riviera sud è riaperta multe al semaforo e ancora ancora notizia di cronaca che però arriva dal Terramano da Tortoreto stroncato da un malore mentre lavora tragedia in un cantiere a Tortoreto la vittima è un carpentiere padre di tre figli la fotonotizia è dedicata all'attrice di teatro Clementina Di Rocco Pescara piange la sua sconfarsa aveva 44 anni oggi i funerali denuncia della CGL nella pagina dedicata all'Abruzzo sono migliaia gli esodati del reddito di cittadinanza e poi ancora città unica e scontro sul nome Montesilvano è spoltore non si chiamerà solo Pescara questo è il pensiero dei due capoluoghi lite dopo la presa di posizione di Sospiri a Città Sant'Angelo è morto il ristoratore Cichetti aveva 63 anni mentre come abbiamo detto anche prima Pescara Calcio Zevan lascia l'ospedale stamani va al campo i titoli sotto la testata c'è l'intervista al candidato presidente d'amico che si rivolge a Marsiglio non allo scontro politico sì al confronto di idee super bonus in Abruzzo 2477 edifici senza gli aiuti questi gli effetti dello stop il report per quanto riguarda in Abruzzo invece più di 3.000 i nuovi contagi salgono anche ricoverati parliamo ovviamente di Covid questo nella prima pagina dedicata a Pescara della quotidiano il centro ma ci sono anche le prime pagine dedicate alle altre province questa è quella che arriva da Teramo muore in cantiere per un malore tortoreto la vittima è un 49enne muratore di Sant'Egidio padre di tre figli ancora per quanto riguarda le altre notizie premio mancato ad altri Ital prefabbricati scatta lo sciopero dei lavoratori si torna a parlare anche dell'omicidio di qualche settimana fa venuto i pressi della stazione di Teramo ha ucciso il padre può ammazzare ancora i giudici motivano il no ai domiciliari all'uomo che ha coltellato il genitore la sentenza il comune recupera 2,1 milioni il tribunale di Roma condanna due banche per i contratti derivati una buona notizia per il comune di Teramo uscito il disco della notte dei serpenti di Melozzi il maestro Teramano mentre per quanto riguarda il rimando allo sport calcio di serie Cilpineto sfida la spalla per puntare alle zone alte ma soprattutto anche per allungare la serie utile per la squadra di Daniele Amaolo dalla prima pagina di Teramo dell'edizione del centro passiamo a quella di Chieti Lanciano e Vasto picchiata dall'ex e seguita fino a scuola il titolo di apertura denuncia sciocca ai carabinieri di una diciottenne costretta a rifugiarsi in chiesa come detto notizia che arriva da Chieti la Sabino è ferma da settembre dopo la morte dei tre lavoratori l'incidente di Casalbordino lo ricorderete 70 operai senza cassa integrazione scuole sgomberate decisa la sede per 240 studenti della Chiarini e ancora per quanto riguarda le altre notizie ancora cronaca sventata la truffa ha un'anziana ha il telefono sotto controllo ma la donna non ci casca l'episodio il piano di un falso carabiniere è arrivato e arriva da Gesso Palena Ortona e Crecchio le case di riposo il personale ancora senza stipendio si parla sempre di sport ma questa volta Didi nella prima pagina del Quodiano il centro dedicata a Chieti Lanciano e Vasto con il Chieti che firma un altro giocatore si tratta di Caterino domani il debutto in Serie D si gioca domani tre anticipi che non riguardano le formazioni abruzzesi si disputano invece nel pomeriggio di oggi quando invece va in scena il campionato di eccellenza e poi vi ricordo alcuni appuntamenti ancora per quanto riguarda la prima pagina del Quodiano il centro questa volta di L'Aquila Avezzano e Sulmona con Baby Gang che aggredisce autisti di bus assalto al terminal di Avezzano mezzo diretto all'Aquila circondati e minacciati contributi sisma da restituire sono 200 i ricorsi questo che è il contenzioso che arriva dal capoluogo di Regione mentre la fotonotizia si riguarda la musica per la solidarietà il concerto di Natale Gigi D'Alessio che incanta in cattedrale premio Anna Luce all'artista il sindaco di L'Aquila Biondi occasione straordinaria tre sfide fino al 2026 così L'Aquila punta su indulgenza giubileo e capitale della cultura l'esperto la neve si fa attendere fino a Natale a parlare è il climatologo mentre la notizia che arriva da Cronaca da Pratola maxifurto di sigarette gratte e vinci in tabaccheria questo per quanto riguarda le prime pagine delle quattro edizioni del quotidiano il centro noi torniamo al quotidiano il messaggero invece per sfogliare le pagine interne dopo aver visto in precedenza la prima pagina dell'edizione Abruzzo la regione alle urne l'appuntamento che si avvicina Marsiglio D'Amico la sfida per ora liste in equilibrio 5 o 6 quelle del presidente uscente l'avversario potrebbe averne una in più ecco i big in campo del centro-sinistra Paolucci D'Alessandro Monticelli Sclocco anche Berardinetti Mario Pupillo Di Costanzo e Di Marco i candidati di maggior spicco Pedaggi in A24 e A25 annullato il tavolo si continua comunque a monitorare la situazione le pagine dedicate alle province partiamo da Pescara sul quotidiano il messaggero la cronaca colpo a bulli e baby gang tre arresti a Pescara controlli nelle piazze calde la città inserita nella maxi operazione della polizia sulla base dei precedenti nel bilancio finale della squadra mobile anche denunce di giovanissimi per reati vari Gianluca Di Frischia che dichiara a livello locale i problemi arrivano da singoli individui costantemente monitorati l'accoltellamento tra ragazzi all'esterno dell'istituto Acerbo tra gli episodi spia analizzati dallo SCO alla fine del corso il giuramento dei nuovi agenti per quanto riguarda la festa degli allievi della polizia di Stato la mala di Natale fancetta di bottiglie al sud del mercato è stato denunciato andiamo a sfogliare ancora le pagine interne nel quotidiano il messaggero dedicate a Pescara strada parco elettrificata il mercato si divide in tre dal 15 gennaio l'alimentazione dei cavi divieto di manifestazioni sul tracciato i 110 ambulanti trasferiti in via via grazie nei parcheggi del bingo e di via spiga ordinanze fotocopia di Montesilvano e Pescara per gestire il cambiamento tua dovrà informare la cittadinanza addio a Don Nicola Ielo fondò la mensa dei poveri con la diocesi in lutto notizie che arrivano sempre da Pescara ma dall'area metropolitana disabili caduti allo stadio ferrante subito i lavori il presidente di carrozzine determinate segnala due incidenti scivolo pericoloso l'assessore allo sport Patrizia Martelli che rassicura valutiamo come intervenire sotto accusa la tribuna Maiella non aspettiamo che ci scappi il morto dice il difensore dei soggetti fragili l'Adriatico Cornacchia vanta 90 posti perché è costretto sulla sedia a rotelle il comune è impegnato per il ripristino morto a 63 anni Marcello Cichetti patron di Villa Chiara siamo a città Sant'Angelo Caramanico si riaccende la speranza terzo bando d'asta per vendere le terme scende di 2 milioni il prezzo base indicato dai curatori due lotti distinti per alberghi e stabilimento Schiaccianoci e Rakanimon al Flaiano al Florian una rilettura di Moby Dick questi gli appuntamenti dalle pagine di Pescara passiamo a quelle dell'Aquila autonoma sistemazione già oltre 200 ricorsi contro la restituzione e gli atti depositati al giudice di pace ma le sentenze sono attese in primavera il comune dopo 14 anni dal sisma vuole 6 milioni considerati illegittimi l'amministrazione ha dato mandato a una società per il recupero su input della Corte dei Conti l'avvertenza tecnocalli i lavoratori chiedono aiuto a Petrocchi mentre ancora arrivano altre notizie dalle pagine dedicate all'Aquila parto in dolore scatta il servizio per l'intera giornata dal primo dicembre la possibilità è estesa H24 con Franco Marinangeli che dichiara è una questione anche etica immobili impianti e macchinari sottratti alla società a processo guai aziendali approda in tribunale il caso di presunta bancarotta fraudolenta procura generale e cittadina ecco i magistrati candidati per la guida ufficiale l'elenco di chi ha risposto ai bandi del CSM per ricoprire il ruolo di capo degli uffici l'anno che verrà il futuro ricostruzione sanità armonia e sport da qualche settimana il messaggero sonda alcuni commercianti in questo caso che parlano anche i cittadini anche che si esprimono sulle loro ambizioni i loro progetti per il 2024 i desideri e i sogni dei cittadini per una città in trasformazione un capoluogo più inclusivo anche per le persone con disabilità tra le priorità emerge la volontà di una progettualità concreta e solidale una visione comune che passi pure per la valorizzazione delle mura civiche ancora per quanto riguarda le pagine dedicate all'Aquila ma nella provincia qui siamo ad Avezzano ferito al viso con la bottiglia 4 anni all'aggressore pesante condanna inflitta al 24enne che colpì un straniero fuori da un locale il fatto si è verificato a ottobre del 2020 quando erano in vigore le misure anti-covid furti alcol e droga stretta per le festività in 15 giorni controlli su 1.400 persone siamo sempre ad Avezzano ci trasferiamo invece a Sulmona NAS blitz nelle case di riposo 8 segnalazioni per carenze nessuna grave violazione ma alcuni elementi che dovranno essere chiariti e sempre nel capoluogo Peligno decoro urbano semafori rimossi la città che cambia torniamo ad Avezzano allarme criminalità autistitua aggrediti dalla baby gang mentre arrivi sondoli addio a Romito il prof elegante il suo albergo è stato un simbolo parliamo di Franco Romito passiamo alle pagine dedicate a Chieti botte e minacce alla ex bracciale elettronico per non farlo avvicinare il provvedimento del jeep di Berardino contro un giovane di 23 anni folle di gelosia settembre scorso l'ultimo scoppio d'ira la ragazza vive nel terrore e non esce da sola la PM Marica Ponziani ha acquisito ben 777 messaggi con frasi pensantissime avvertimenti anche alle miche di lei forse Italia a congresso anche Gasparri a Chieti mentre per quanto riguarda il problema scuola Chiarini in centini della porta nuove aule alla Chiarini diaspora finiti un Natale di solidarietà per le famiglie bisognose avvasto dalla Caritas al Patris Cordi un aiuto concreto a centinaia di persone un giorno speciale domani il concerto della live music per la scuola in ospedale sempre più difficile pagare le bollette o fare fronte ai rincari dei prezzi crescono gli ospiti del dormitorio il mantello di San Martino offre vestiario dalle parrocchie altre forme di sostegno a Lanciano weekend di eventi con le associazioni per le feste sotto l'albero ovviamente il Natale si avvicina si moltiplicano gli appuntamenti politica per quanto riguarda il siamo alla terra frentana a Lanciano Paolucci candidata alla regione da Forza Italia bomba correrà per Fratelli d'Italia si parla di lavoro vasto vertenza Lido stipendi in ritardo sindacati in allarme e noi allora prima di andare a sfogliare le pagine dedicate a Teramo e poi allo sport dando un'occhiata anche ai siti ANSA Abruzzo e Abruzzo Web torniamo ai nostri spazi informativi e andiamo a approfondire con un servizio che parla proprio del lavoro con l'intervento dell'assessore regionale quaresimale sulla Johnson Control Boccata d'ossigeno per i 59 lavoratori della Johnson Control la multinazionale che nei mesi scorsi aveva annunciato l'intenzione di chiudere il sito di Corropo per trasferire la produzione all'estero al tavolo istituzionale convocato dall'assessore regionale al lavoro Pietro conresimale l'azienda ha annunciato che non attiverà la procedura collettiva di licenziamento procedendo con la cassa integrazione straordinaria per un anno è un'importante vittoria di tutti dei dipendenti dei dipendenti dei dipendenti del Johnson dei sindacati dell'assessorato sicuramente ci dà appunto sollievo rispetto alla situazione che era partita in maniera critica in cui appunto erano previsti dei licenziamenti immediati invece un anno di CIG ci permetterà di fare politiche attive di riqualificare i dipendenti ma soprattutto di ricollocarli e a riguardo c'è già un'azienda che opera sul territorio della Val Vibrata che è intenzionata a ricollocare almeno una parte dei dipendenti della Johnson quindi siamo in contatto siamo già a buon punto e quindi anche questo è un'ulteriore notizia positiva Un tempo utile quindi per valutare i piani della Johnson Control e permettere il ricollocamento di quanti più lavoratori possibili sul futuro del sito di Corropoli però restano le incognite tanto che FIOM CGL e FIM CISL sono più cauti e hanno annunciato una conferenza stampa per lunedì per chiarire meglio i termini degli accordi Ci sono esuberi probabilmente dopo questo anno ma noi speriamo che con questo termine riusciamo a ricollocarli ripeto c'è già un'azienda che è interessata quindi sicuramente è una notizia positiva invece un licenziamento immediato non permette assolutamente di fare operazioni di mediazione operazioni di ricollocamento operazioni politiche attive e torniamo alla nostra rassegna stampa dove avevamo le pagine del messaggero Abruzzo dedicate a Teramo con l'anno che verrà ve lo dicevamo abbiamo visto le quattro interviste all'Aquila che riguardavano dei cittadini a Teramo invece abbiamo quattro interviste con un preside Sandra Renzi il procuratore capo Ettore Picardi il presidente dell'associazione dell'AIL Giuseppe Paterna è il direttore di Oncologia del reparto di Oncologia Katia Cannita ospedale giochi mercato una città con più servizi l'oncologa Cannita la buona sanità ha bisogno di un contenitore adeguato il procuratore Picardi meno violenza e recupero dei danni causati dal sisma la preside Renzi spazi attrezzati per i bambini il presidente dell'AIL Paterna invece ci vuole la telemedicina questi sono gli obiettivi che sono usciti fuori da questa intervista della collega Agostina degli compagni cronaca maltrattamenti nel centro di accoglienza 3 a giudizio mentre per quanto riguarda la politica ad amico ecco perché dovete votarmi l'ex rettore candidato del centro-sinistra alla regione si presenta ai suoi elettori di Teramo e della provincia creare posti di lavoro per i giovani è la priorità assoluta la sanità deve tornare il fiore all'occhiello che era una volta piano spiaggia l'assessore di Candido siamo a Giulianova ci batteremo per chalet e piscine sempre a Giulianova furto nell'ottica 3.1 ancora altre notizie a Tortoreto la cronaca carpentiere stroncato da infarto nel cantiere abbiamo detto un 49enne di Sant'Egidio alla vibrata originario mentre la momenti di paura ieri al liceo Delfi con prof professore colpito da malore crolla davanti ai ragazzi momenti di paura ieri al liceo classico delfico del capoluogo scuola in ansia per le sue condizioni questo per quanto riguarda le pagine dedicate a Teramo del quotidiano il messaggero noi andiamo adesso a sfogliare comunque a consultare il sito Abruzzo Anza Abruzzo con la prima pagina dedicata allo sport con la notizia di Zeman che è stato dimesso dalla clinica parliamo ovviamente di calcio del Pescara in particolar modo ora a riposo ricorderete che martedì scorso era stato colpito da un'ischemia transitoria ancora la cronaca due quintali di botti illegali su un furgone per Latticini ospedale di Avezzano in consiglio comunale l'intesa con la ASL Nassi in case di riposo in Valle Peligna carenze in otto strutture questo per quanto riguarda la prima pagina dell'ANSA Abruzzo c'è anche Abruzzo Web che andremo a consultare reddito delle famiglie Abruzzo primo del sud Italia incremento dal 2019 dell'8,7% regionali attacco di Conte a Italia dei Valori Mina Campolargo Ira ad Alessandro non decide lui con chi stiamo a 24 a 25 eliminato il tavolo istituzionale al MIT protestano i sindaci di Lazio e Abruzzo ancora per quanto riguarda le altre notizie vita indipendente via libera gradatori a beneficiari quaresimale tutte istanze finanziate Orsa Marena minacce sul web ad Andrea Leonbruni oltre 100 le persone indagate e noi dopo i siti andiamo invece torniamo al quotidiano il messaggero per andare a sfogliare le pagine dedicate allo sport Pescara d'Ancona e Zeman è già a casa il mister in anticipo rispetto al programma è uscito dalla clinica verso l'ora di pranzo la partita contro i 12 vedrà in televisione la vedrà in televisione ma vuole salutare i ragazzi prima della trasferta emergenza in difesa domani la coppia centrale sarà costituita da Mesic di Pasquale Brosco infatti tra i possibili assenti Pescara che comunque sarà seguito da oltre 1000 tifosi con il settore ospiti già sold out Leston e Tunjov in bilico per la gara e Mediana in pole Aloy e De Marco ancora per quanto riguarda il calcio di serie C Pineto ha l'insidia a spalla Amaolo ha un organico importante giocatore che hanno militato anche in B il tecnico Biancazzurro non ci saranno stravolgimenti rispetto alle ultime gare coppia offensiva che dovrebbe essere ancora composta da Gambale e Volpicelli Avezzano affano per il colpaccio parliamo ora di serie D mister Ferrazzoli predica calma stiamo bene ma nelle marche non sarà una passeggiata il notaresco cerca il blitz sul campo dell'atletico Ascoli questo per quanto riguarda la serie D ma oggi si gioca in eccellenza un turno anticipato in vista del turno infrasettimanale di giovedì 21 Teramo arriva il Cupello 6 punti per chiudere bene l'allenatore Pomante pretende due vittorie per finire l'anno in vetta Teramo infatti che oggi giocherà col Cupello giovedì nella prima di ritorno affronterà il Castelnuovo Giulianova invece a Sant'Egidio per ritrovare il successo mister Lucarelli deciso a fare esordire il nuovo acquisto pera Vastese col Castelnuovo ma è sempre più bufera mentre il Sulmona a Celano derby con due team rinnovati profondamente dalle operazioni di mercato si parla anche di basket con le Panthers di Roseto prima in classifica reduci da sette vittorie consecutive in a due donne stasera a Rovigo per consolidare la vetta la capitana Allegra Botteghi siamo consapevoli che adesso tutti proveranno a prenderci e noi allora siccome si chiude questo appuntamento con di prima mattina vi ricordo alcuni appuntamenti non prima di avervi aggiornato sulla nostra rubrica dedicata agli arbitri Armando Feliciani della sezione di Teramo dirigerà la gara Atalanta Salernitana di Serie A Daniele Paterna sarà a Varri in Milan Monza e a Varri in Feralpi Salò Cremonese in Serie B Antonio Di Martino a Varri in Torino Empoli e Varri in Spezia Bari questo per quanto riguarda la nostra rubrica dedicata ai vischietti di Teramani della Canna di Serie A e B gli appuntamenti invece oggi alle 14 alle 19 due edizioni dei nostri dei nostri spazi informativi dedicati alla TG J News mentre per quanto riguarda gli appuntamenti sportivi alle 14 e 20 ci sarà Linea Gol subito dopo la prima edizione del telegiornale per seguire da vicino l'ultima giornata di andata del campionato di eccellenza alle 19 e 30 invece circa subito dopo la seconda edizione del nostro telegiornale ci sarà Bruzzo d'Eccellenza con Lorenzo Mazzaufo e Fabrizia Cardinale per vedere tutto quanto è successo nell'ultima giornata di andata di eccellenza in campo oggi grazie a voi tutti per averci seguito di prima mattina torna puntuale lunedì mattina buon fine settimana grazie a tutti Grazie a tutti.